Simone Tarpanelli si era messo anche il vestito buono per la rincorsa alla Serie D, non battute a parte, con i secondi massi va poco lontano, ma senza quello rosso a Barbini dopo 34 minuti? Senza il rosso a Barbini dopo 34 minuti sono sicuro quello che pensavamo prima e tutta la settimana che l'Angelana passava il turno. Era una squadra, i ragazzi erano motivati, hanno fatto quello che loro credevano nei primi 30 minuti dimostrando veramente di essere superiori al Francavilla oltre, ma questo io non c'ero la partita di andata, me l'hanno detto in settimana, me l'hanno ripetuto che loro credevano in questo passaggio del turno, purtroppo è venuto l'episodio sull'1-0 e lì credo che sia finita la partita. Guardando avanti ora al prossimo anno? Il prossimo anno come tutti gli anni, noi è una società impostata, una società che ha formato un gruppo di ragazzi che crediamo nelle loro qualità, non so adesso che faremo dal punto di vista tecnico. La certezza però c'è, Sandro Grivelli non allenerà l'Angelana, magari un grazie a lui anche per quello che ha fatto dopo il suo arrivo. Guarda, io per il mister, lui è un ringraziamento particolare da parte di tutta la società, io lo faremo e va fatto, io lo ringrazio personalmente perché per me è un padre, con lui vivo dei ricordi da anni, prima con mio padre, poi io ero suo calciatore, quindi gli abbiamo chiesto quel favore andando quel lunedì pomeriggio a casa sua e a lui ha risposto alla grande, ci ha preso per mano, come ho detto più volte, ha preso per mano la squadra, la nostra società e ci ha portato ai risultati. Per noi, al di là della sconfitta oggi, il non passaggio del turno non è un danno assolutamente, ma è un'esperienza, la prendiamo con un'esperienza, un'esperienza di crescita, non è una sconfitta ma una vittoria, una vittoria perché abbiamo dimostrato che con il lavoro del settore regionale abbiamo portato tanti ragazzi in prima squadra e se l'hanno giocata sia a Francavilla che oggi, alla pari con squadre di fuori regione all'altezza che magari hanno dei budget diversamente dai nostri. Se lo chiedono tutti i numeri, un'ulteriore conferma, non ci sarà domanda di ripescaggio da parte dell'Angela? Noi l'avevo anticipato, ne abbiamo parlato poi dopo la vittoria con il Ventinella, domanda di ripescaggio non ne faremo e non ne facciamo, se le vittorie vengono sul campo noi ci ragioniamo e sicuramente se veniva sul campo non è che ci tireranno indietro per farla perché siamo anche impostati, adesso siamo anche un po' presuntuosi, posso essere presuntuosi ma un giro di società impostate e organizzate come le nostre, credo ce ne siano poche, quindi noi se veniva sul campo la facciamo tranquillamente, non è venuta e ti dico che continua il nostro lavoro di organizzazione della struttura, il lavoro di crescita di quello che è la società, quello che sarà il tasso tecnico, scegliendo un allenatore che sposi quello che è la filosofia della società, che sia un allenatore, è uno dei nostri, uno dei nostri che farà parte di un'organizzazione, di un'area tecnica che avrà in primis la persona di Sandro Crivelli che è come il nuovo direttore tecnico che poi valuteremo in consiglio, insomma la situazione del mister sarà questo, già sta lavorando per il settore giovanile insieme ai responsabili, a Scopetti, a Paola, a Maccabei, quindi lui è l'allenatore tecnico, te la sei cercata, allenatore invece? Allenatore non lo sappiamo, l'allenatore sicuramente sarà la figura più difficile da scegliere, non perché non ci siano bravi ma perché dopo tre mesi fatti così, avendo ricreato un gruppo, avendo ricreato una squadra che tutti, compreso la stampa, la davano per morta, perché alla fine del, penso che noi a gennaio eravamo a sette punti fuori dai playoff e a undici dalla seconda, ha fatto una rincorsa che io credevo perché ho sempre detto, e tu sei testimone delle qualità che vedevo in allenamento, che poteva mancare solo un piccolo aggiustamento perché questa squadra venisse fuori, quindi ti dico, deve essere una persona che conosca bene l'Angelana, una persona dell'Angelana. Tommaso Guazzolini può essere un nome? Tommaso Guazzolini può essere un nome, come può essere un nome Andrea Risalelli, come può essere un nome, adesso chi ce n'è libero non mi ricordo, però come tutti noi faremo dei colloqui, ragioneremo un pochino con tutti, però deve avere un profilo che è da Angelana, se qui gli allenatori vengono che sono un pochino permalosi oppure hanno altre ambizioni, non è la società giusta.